Riprenderanno domani pomeriggio gli allenamenti del Pescara allo stadio comunale di Città Sant'Angelo. Zeman ha approfittato della sosta di campionato per gli impegni delle nazionali per dare tre giorni di riposo al gruppo che si ritroverà senza i giocatori convocati. L'Edihan Memushay giocherà con la nazionale albanese contro gli azzurri di Ventura venerdì sera a Palermo, match valido per le qualificazioni mondiali, e poi in amichevole a Elbasan contro la Bosnia il prossimo 28 marzo. Valerio Verre e Alberto Cerri saranno impegnati con l'Under 21, a proposito dopo le ultime defezioni è stato convocato anche l'ex biancazzurro Mandragora. Azzurrini in campo domani sera a Cracovia contro la Polonia e lunedì sera contro la Spagna all'Olimpico di Roma. Verre e Cerri saranno a disposizione di Zeman da martedì prossimo con il Delfino che continuerà a lavorare per la ripresa del campionato quando l'Adriatico Cornacchia sarà di scena il Milan. Giorni che saranno utili per consentire il pieno recupero a chi è acciaccato come Mitriza, Pepe e Stendardo o chi è rientrato in gruppo ma non è ancora al massimo come Baebec e Campagnaro. Giorni nei quali si capirà se Zeman vorrà dare delle chance maggiori a Koulibaly. Convocato per la prima volta e fatto debuttare nella ripresa a Bergamo, il gioiellino senegalese ha confidato ai nostri microfoni di essere tifoso del Milan e di tenere molto alla prossima gara. Probabilmente è utile cavalcare l'entusiasmo di Koulibaly piuttosto che affidarsi a un Montari ancora fuori condizione o un Verre già con la testa altrove, posto che con il Milan tornerà disponibile Bruno dopo aver scontato una giornata di squalifica. Pescara-Milan sarà la prima di tre partite consecutive casalinghe, le altre con Juventus e Roma, per la quale la Pescara Calcio ha ritoccato al rialzo i prezzi dei biglietti portando le due curve a 25 euro, la tribuna adriatica a 35 euro, laterale e 45 euro, centrale, tribuna maiella a 150 euro, centrale, 70, laterale e le poltronissime a 250 euro. I tagliandi di Pescara-Milan saranno acquistabili sui punti vendita Ticket One o presso lo store ufficiale di Via Regina Margherita dalle ore 10 del lunedì prossimo 27 marzo.